Sono giorni di festa nel territorio del Vallo di Diano, Tanagro e Alborni. Nelle prime due settimane di settembre si sono festeggiati ben tre centenari, l'ultimo in ordine di tempo sabato scorso quando la comunità di Aquara ha festeggiato i cento anni di Nonna Rosa d'Urso con la presenza del sindaco Antonio Marino. Punto di riferimento per i concittadini, la neocentenaria è stata festeggiata in piazza dopo la Santa Messa di Don Antonio Calandriello che durante la celebrazione eucaristica ha fatto gli auguri a Nonna Rosa da parte sua e dell'intera comunità acquarese regalandole una pergamena. Nonna Rosa, molto emozionata con parole semplici e dolci, ha ringraziato tutti i suoi compaesani. Subito dopo si è svolta una piccola cerimonia nel largo Attilio Maggi. Il sindaco Antonio Marino ha augurato a nome suo e dell'amministrazione buon compleanno a Nonna Rosa mettendo in evidenza la figura della festeggiata e saltandone qualità e bontà. Il primo cittadino ha poi consegnato a Nonna Rosa una targa in ricordo di questo magnifico traguardo. Alla donna si legge testimonia attiva di cento anni della nostra comunità che ha attraversato momenti difficili e momenti ricchi di speranza. A zia Rosa, riferimento costante di valori fondanti della nostra cara Aquara, tantissimi auguri per questi suoi primi cento anni. Dopo gli auguri del sindaco, anche i nipoti hanno letto un pensiero alla nonna augurandole altri cento compleanni.